Pasqua 25 aprile e primo maggio, tre festività che rappresentano un anticipo d'estate, i piacentini hanno mostrato la voglia di lasciare i confini provinciali concedendosi un viaggio. Hanno risposto molto bene, nel senso che i ponti, tutti da Pasqua sino al primo maggio, risultano molto completi. Hanno scelto le capitali europee in prima battuta, ma anche l'Italia riscoprendo Venezia, Roma e anche le nostre città al mare le mette diciamo più vicine. Gli attentati terroristici non sembrano influenzare i viaggiatori. Se ne parla, però non mi sento di registrarlo dalla percezione proprio dei clienti che comunque hanno scelto anche di andare a Mosca, San Pietroburgo, sempre per questi ponti, e poi anche destinazioni di mare più a lungo raggio, come Morisius, oppure un medio raggio come Porto Santo, Capoverde. Quindi sembra proprio che i piacentini abbiano voglia di partire da quello che emerge da questi giorni. Sì, la percezione è quella, proprio di tanta voglia di comunque evadere, staccare, fare una vacanza, che sia di pochi giorni o anche magari per chi se la può permettere, di una settimana. Vengono qui con delle idee già chiare oppure bisogna indicare meta, consigliare? Dipende dal cliente. Internet ha dato una grossa mano, quindi ci sono clienti che entrano e hanno già ben chiaro quella che è la meta della loro vacanza. Altri invece, davvero, dove si guarda qualsiasi meta. E poi invece c'è già chi pensa all'estate, ha già prenotato? Sì, assolutamente. Per l'estate, agosto, ma anche settembre e anche ottobre. C'è già una meta che può essere quella più gettonata? Come l'anno scorso, tantissima Sardegna.